Buonasera, buonasera a tutti. Diamo intanto il tempo a tutti quanti di entrare, siete in tanti, andiamo piano piano in modo che possiate tutti collegarvi. Mi chiamo Pagani, sono il vice presidente della consulta fra antiche istituzioni bolognesi e per noi è un onore essere qui per la quinta volta, purtroppo l'ultima, a questo ciclo, il quarto anno del ciclo I giovedì della consulta dove presentiamo la storia di Bologna. Oggi questo nostro ultimo incontro sarà dedicato alla figura di Gregorio XIII, storia di un grande papa. Dobbiamo sempre ringraziare il professor Roberto Corinaldesi, professore merito dell'Alma Mater, ma per passione storico ed appassionato di Bologna. Ci ha condotto in questi cinque incontri sulla storia di Bologna, sempre molto interessanti e sarà anche il nostro relatore stasena. Intanto che state arrivando, vi voglio ricordare che l'evento dei giovedì della consulta è organizzato dalla consulta fra antiche istituzioni bolognesi, un sodalizio di 28 storiche istituzioni che operano a Bologna dal 1170 in avanti, ininterrottamente, in tutti gli ambiti di carattere sociale, scolastico, educativo, sanitario, formativo, artistico. Sono storiche istituzioni, le abbiamo presentate nel corso di questi incontri, oggi presenteremo le ultime, sono nomi anche abbastanza famosi, molto conosciuti, sono e operano per il bene di Bologna e dei bolognesi da secoli oramai. Oggi presentiamo la Casa di Lavoro per donne cieche, è un'istituzione fondata nel 1927 e tale fondazione si deve al padre Barnabita Francesco Maria Fracassetti, molto nota a Bologna per la sua attività di benefattore, e al professor Gaetano Petroncini, che era non vedente. A Petroncini e alla moglie fu affidata alla direzione della casa nella sua prima serie di Via dei Marchi e poi successivamente, dal 1945, in Via Mazzini, ricevuto proprio in lascito dalla signora Maria Dall'Oglio, non vedente, ed espressamente pensata per le ospiti di una casa come una casa decorosa, arredata, in posizione salobre, si legge nella donazione, con giardino appena fuori dalle antiche mura, proprio per aiutare le donne cieche che erano di Bologna. Recentemente è entrata un'altra istituzione che per noi è stato motivo di grande prestigio, onore e piacere averla, la Dotta Confraternita del Tortellino, 1965. Questa associazione ha come scopo principale quello di offrire agli esponenti, alla cittadinanza, lo studio, l'arte e il lavoro nello studio del tortellino, di questa nostra grande specialità, per rivalutare e per promuovere il prestigio della cultura bolognese e in particolare anche della cucina bolognese. L'associazione nasce per diffondere e difendere le più autentiche ricette gastronomiche, in particolar modo quello del tortellino in brodo, che viene assunto a simbolo della bolognesità. Poi abbiamo una collaborazione speciale e continuativa con l'Accademia Italiana della Cucina, fondata nel 1953 a Milano da un gruppo di qualificati esponenti della cultura, dell'industria e del giornalismo. L'Accademia è un'istituzione culturale dal 2003 della Repubblica Italiana e allo scopo di tutelare le tradizioni della cucina italiana, di promuovere e favorire il miglioramento della stessa in Italia e all'estero. Bene, con questa nostra presentazione abbiamo dato il tempo a tutti di potersi collegare. Queste sono le nostre istituzioni, storiche istituzioni, 28, la più antica 1170, poi 1200, 1300, 1500, 1600. Tutte hanno operato ininterrottamente per il bene di Bologna e dei bolognesi. A loro va un grande, veramente, applauso. Bene, lascio la parola al professor Corinaldesi, Gregorio XIII, storia di un grande Papa e di una statua. Buona serata a tutti. Buonasera, lo dico con un po' così di malinconia perché è l'ultima volta che lo dico per quest'anno, ma è con l'augurio che Dio vorrà di poterti rivedere l'anno prossimo. Parlerò questa sera di un personaggio importante, di un bolognese importante. Ora, guardando Palazzo d'Accurzio, lo sguardo viene attratto da una statua imponente che ne sovrasta il portone principale. Sopra di essa vedrete campeggio una strana scritta dius Petronius Protector et Pater. Ma chi è di fatto questo personaggio di cui San Petronio, il patrono di Bologna, in fondo, ha rubato l'immagine? Si tratta di un importante figlio della nostra città. Direi è il 226esimo pontefice della Chiesa Cattolica, cioè Gregorio XIII, al secolo Ugo Boncompagni, che è stato considerato uno dei papi più importanti dell'età moderna, poiché nel suo pulverbo e pontificato vennero effettuate la riforma cattolica di fatto e quella del calendario che noi oggi usiamo. Ugo Boncompagni era il quarto figlio di Cristoforo, cioè un ricco banchiere e commerciante bolognese, e di Angela Maria Mariscacchi. La famiglia, che era probabilmente originaria di Piso Calvo, si era distinta in Bologna e aveva fatto fortuna con il commercio dei panni e con l'attività creditissima, come facevano poi quelli che facevano fortuna allora. Ma non solo. Su finire del Trecento un tal Pietro Boncompagni insegnava diritto civile presso lo studio bolognese. Il nostro Ugo vide la luce il 7 di gennaio del 1502 nel bel palazzo di famiglie, nell'attuale Via del Monte, che tutti conoscerete bene. Dopo una giovinezza spensierata, i buoncompagni intraprese gli studi di giurisprudenza e senza fretta all'età perché passò veramente una gioventù allegra, e a 28 anni conseguì la laurea di dottore in utroque iure, cioè vale a dire in diritto civile e in diritto canonico. Era il 1530, l'anno in cui giunse in città Papa Clemente VII dei Medici per incoronare Carlo V, imperatore. Divenuto dottore, Ugo esercitò la sua attività di lettore presso il studio bolognese dal 1931 al 1939. Ed è interessante vedere che tra i suoi allievi possiamo annoverare dei personaggi che poi si sono stati destinati ad un futuro quanto mai di successo, quale Alessandro Farnese, Reginald Paul, ad esempio, e Carlo Borromeo. Ma un bel giorno, siamo nel 1539, il buoncompagno rassegna le dimissioni da docente dello studio bolognese. Alcuni maligni affermarono allora che all'origine di questa sua scelta vi era il fatto che aveva avuto un contrasto con l'amministrazione dello studio per la sua remunerazione. Fatto sta che dopo aver ricoperto alcuni carichi modesti, carichi pubblici, entrò al servizio in qualità di segretario di un cardinale, il cardinale Paolo Parisio, che nel 1540 lo conduce con sero, dove intraprende la carriera ecclesiastica e viene ordinato sacerdote nel 1542, all'età di 40 anni suonati. Allora sedeva sul trono di Pietro Paolo III, che era al secolo Alessandro Farnese. Questi deve la sua fama in peritura non tanto alla bella sorella Giulia, che era l'amante di Papa Borgia, che gli valse un soprannome poco edificante, tanto che lo chiamavano il cardinal Frenese invece che Farnese, e quanto all'aver autorizzato nel 1540 praticamente la fondazione della Compagnia di Gesù proposta da Ignacio di Loyola e aver dato il via praticamente al concilio di Trento nel 1545. Il potefice non poteva non tener conto delle capacità giuridiche del buon compagno e quindi lo chiamò subito a svolgere la sua attività nell'amministrazione della giustizia e allora gli assegnò un incarico a secondo collaterale in Campidoglio, cioè uno dei due giudici del tribunale civile e lo nominò quindi referendario in utriusque signature. Il titolo di referendario era già presente in uso nel Tado Impero Romano e nell'Impero Bizantino, era stato adottato nella Stucuria Romana già a partire dal XIII secolo per praticamente designare i prelati della cancelleria apostolica che erano incaricati di esaminare le suppliche che erano dirette al Papa e quindi di reperire al medesimo e predisporre tutte le delibere che venivano poi a un certo punto dal Papa firmate. Ecco da qui la signatura. e dal pontificato di Eugenio Quanti in avanti i referendari potevano decidere autonomamente su certe suppliche e all'uomo era stato istituito anche un apposito ufficio, l'ufficio della signatura, un sdoppiato in due, cioè la signatura grazie, di fatto per quelli che a un certo momento richiedevano dei favori e la signatura giustizia, che era quella per i chiedi a giustizia. E come esperto importante di diritto canonico, imminente, Boncompagni non poteva poi non essere inviato al Concilio di Trento come rappresentante della Curie nella veste di abbreviatore, cioè deve fare delle sintesi diciamo, su fondamentali questioni, qual è l'obbligo di residenza dei vescovi e la riforma del disciplinare in generale. Ora, in seguito alla decisione che venne poi, ci era venuta la peste, una cosina che aveva condizionato sicuramente il Concilio di Trento, e il Concilio fu spostato a Bologna, il Boncompagni tornò nella sua città, nel palazzo di famiglia, e qui nel 1548 ebbe un figlio da una donna nubile della casa, una tal Maddalena Fultini. Ora pare che lui l'abbia fatto apposta, spinto dal desiderio di garantirsi un'erede, dal momento che il padre gli aveva lasciato una cospicua fortuna, un'eredità, e tra questi la metà praticamente del palazzo di famiglia. Il neonato fu legittimato e fu battezzato col nome di Giacomo e ne fu affidata l'educazione al fratello. Alla madre fu assegnata una sostanziosa dote per darla esposa a un moratore. Nel 1549 Papa Paolo III passò a miglior vita e il conclave nominò Papa Giovanni Maria Ciocchi dal Monte, che assunse il nome di Giulio III. Tra le tante cose lo si ricorda per la sua politica antifrancese, la tolleranza nei confronti degli ebrei, in particolare per la costruzione a Roma della bellissima Villa Giulia. Ora, lui promosse la seconda fase del Concilio Tridentino, che però non vide partecipare i buon compagni. Questo infatti, per cause non note, di fatto poi detto tra noi il Giulio III, era anche lui di nasceva giurista, era accaduto in un certo qualsiasi un disgrazia e si era visto revocare anche l'incarico di referendario. Quindi in questo periodo si dedicò alla carriera nell'ambito della curia, venendo nominato segretario pontificio. Però la sua stella tornò a brillare, quando praticamente alla morte di Giulio III gli successe, dopo direi solo 22 giorni di pontificato di questo signore, Papa Marcello II, chi? Gli successe Paolo IV. Paolo IV al secolo Gian Pietro Caraffa, un papa alquanto discusso, perché dette un giro di vita all'Inquisizione, all'Indice e poi perché perseguitò gli ebrei chiudendoli nei ghetti. Questo, cioè Paolo IV, affiancò subito il nostro praticamente buon compagni al cardinal nipote, cioè il che era il cardinale Carlo alla Dattaria. Cos'era? Cioè innanzitutto c'è da dire cos'era la figura del cardinal nipote. Il cardinal nipote era spesso un figlio naturale o un congiunto del pontifice e questa usanza praticamente che era nata nel Medioevo raggiunse la massima diffusione tra il XV e XVII secolo. Di fatto lui svolgeva un ruolo di segretario particolare, era il cosiddetto Secretarius Major, e deteneva l'incarico di sovrintendente dello Stato ecclesiastico, che poi, direi, incarico che fu destinato a decadere con la crescita del potere del cardinale segretario di Stato. Il termine nepotismo, che oggi è utilizzato come un'espressione negativa, come ben sapete, si riferiva originariamente a questa pratica che vedeva il cardinal nipote nominato dal Papa nell'ambito del primo concilio da lui indetto. Era chiaro che in quel modo il Papa si garantiva di avere accanto a lui una persona di famiglia, una persona di fiducia, a un certo punto ne potesse, a un certo punto, dargli una mano. Quanto poi al discorso della dataria, mi diceva, cos'è la dataria? Ora, è creata nell'undicesimo secolo, nella Curia Romana, c'era questo ufficio, detto Cancelleria Apostolica, che era addetto alla corrispondenza e alla conservazione degli atti ufficiali. Tra i più importanti, che facevano parte della dataria degli uffici, che vennero creati proprio per le norme e moli di lavoro, vi fu la Segreteria di Stato e la dataria dei brevi, la qualità dataria dei brevi. La funzione della dataria dei brevi era quella di una moderna agenzia delle entrate, di fatto. Cioè, nelle sue casse affluivano tutti i proventi delle varie concessioni e autorizzazioni che venivano a un certo momento date. Autorizzazioni che dal documento che le attestava erano detti brevi. Ecco da dove viene il termine moderno di brevetto. L'ufficio aveva una sede nell'omonimo palazzo, nell'attuale Via della Dataria, e questo ufficio è stato soppresso solo poco tempo fa, nel 1967, da Paolo VI. Ora, a seguito del cardinale nipote, compagni, comincia ad andare in missione in tutta Europa, dal Belgio alla Francia, eccetera, e viene poi nominato come vicereggente della Camera Apostolica, viene nominato membro del nel situito Consiglio di Stato e quindi nominato Vescovo di Veste. E governò per due anni praticamente questa diocese che si stava riprendendo con grande difficoltà dai sacchetti che avevano operato i turchi, in particolare quelli guidati dal pirata famoso pirata Draguc. E infatti ridottò la cattedrale di arredi, paramenti sacri e concesse notevoli privilegi alla città. Ora, era il 26 settembre del 1559, allorché il conclave, alla morte di Paolo IV, nominò Papa Giovanni Angelo Medici di Marignano, con nome di Pio IV. Questo era francamente ostile ai calaffa, al Papa che l'aveva preceduto, tanto da far giustiziare i nipoti, i due nipoti di Paolo IV, che si chiamano Carlo Giovanni. Il buon compagni cosa fece? Rimise subito nelle mani del pontefice il suo incarico di Vescovo, che però vi venne immediatamente riconfermato. Quindi sia il Papa sia il canadino nipote, che ve lo ricordate era stato allievo appunto del buon compagni e non studio bolognese, gli affidarono un ruolo decisivo nell'ambito del Consiglio di Trento, che era stato nuovamente indetto praticamente nel gennaio del 1562. Rientrato a Roma nel 1563, dopo la chiusura del Consiglio di Trento, il buon compagni fu chiamato alle dirette dispendenze di Carlo Borromeo, del cardinal nipote, e gli fu conferita nel 1565 la porpora di Cardinale. Poco tempo dopo il Papa lo nominò legato in Spagna, per concludere un problema assai spinoso che era venuto a crearsi in quella serie, cioè un'inchiesta, un processo, che era stato avviato dall'Inquisizione per eresia nei confronti dell'allora arcivescovo di Toledo, nonché primate di Spagna, che era Bartolomé di Caranza in Miranca. Ora questa occasione fu un'occasione per i buon compagni di andare in Spagna e lì fa si conosce nel da Filippo II, che ebbe modo di apprezzare il carattere del nostro Ugo e la sua intelligenza particolarmente acuta. E tra i due si stabilì subito una grande amicizia che giocherà un ruolo importante, nonché decisivo, al momento della candidatura di buon compagni al soglio pontificio. Ora, la missione fu interrotta dalla notizia della morte di Pio IV e quindi dalla necessità di dover ritornare a Roma a partecipare al concreto. Ma l'annuncio dell'elezione del nuovo Papa raggiunse di fatto i buon compagni quando era ad Avignone, sulla Via del Ritorno. Salì al trono pontificio Piotto Papa, Pio V Grisilieri, il quale a un certo punto è stato poi di origine bolognese, lui era nato in provincia di Alessandria, ma i genitori erano fuggiti da Bologna perché erano stati tra i congiurati che avevano ucciso Annibale Ventivoglio. Lui era bolognese, francamente attaccato alla sua città e divenne santo perché fu lui che promosse praticamente la crociata che portò alla vittoria di Lepanto. E poi anche perché a un certo punto iniziò una profonda riforma della Chiesa con la chiusura del concilio di Trento. Tra le sue tante iniziative, non possiamo dimenticare, fu lui che introdusse praticamente il breviario nella Chiesa, l'insegnamento ai bambini della dottrina. E poi non dimentichiamo che proprio per le sue origini bolognesi, e per questo dobbiamo non dimenticare un'altra città, regalò a Bologna praticamente la chiusura di Casaletto che costruì a sue spese, nonché una delle porte, Porta Isaia, Porta Sant'Isaia che in suo onore fu chiamata anche Porta Pia. Bene, durante il nuovo pontificato, Ungu Boncompagni non ricoprì incarichi di particolare il rilievo. Se si esclude di nuovo la signatura dei brevi, che è un ruolo, diciamo, prestigioso, di grande fiducia, come abbiamo visto, ma che però non comportava vere e proprie responsabilità di governo. In quegli anni si rafforzò la sua fama di uomo retto ed equilibrato e quindi quando morì Pio V il suo nome figurava tra la lista dei papabili, vi direi forse in pole position. Non vi erano infatti chiare opposizioni nelle corti cattoliche o all'interno del Sacro Collegio. A suo favore giocavano poi la solida preparazione giuridica, la lunga esperienza in Curia e i rapporti quantomai amichevoli con Filippo II. Ora fu così che il 12 maggio del 1572 entrarono in conclave 53 cardinali. Di questi, 45 erano italiani, 3 tedeschi, 3 spagnoli e 2 francesi. Il giorno successivo, al termine di una sola seduta, Ungu Boncompagni venne nominato papa con 53 voti su 53. Evidente a quel punto che lui si era autovotato, non c'è poco da dire. Questo non fu una bella figura detto fra noi. Comunque direi assunse il nome di Gregorio XIII perché il 13 maggio è il giorno dedicato a San Gregorio Magno. Ora tra i votanti vi era il futuro San Carlo Borromeo che lui si rivolse perplesso dicendo che non l'avrebbe votato se avesse saputo poi che lui aveva avuto un figlio. Al che Boncompagni rispose che era importante non che l'avesse saputo lui ma che lo sapesse la Divina Providenza. Ora è attensi curioso pensare che due papi bolognesi si trovino sul secondo gradino del podio dei conclavi più brevi, di fatto dopo quello di Giulio II che fu nominato addirittura dopo dieci ore, non posso neanche una notte come in questo caso nel 1503, è quello più lungo, cioè quello di Viterbo come voi sapete che durò millesei giorni che vide letto Gregorio X quando la popolazione si arrabbiò e scoperchiò il tetto addirittura della sede dove erano riuniti i cardinali. Bene, il Lambertini, lo sapete, fu direi quello che arrivò subito dopo con un conclave anche lui molto ma molto lungo, di parecchi mesi. Ora, chi credeva che fosse arrivato il solito pontefice anziano di transizione rimase presto profondamente deluso. Malgrado avesse già 70 anni suonati, Gregorio dimostrò un'eccezionale energia, una grande volontà di continuare l'opera radicale di trasformazione della Chiesa secondo i canoni che erano stati sanciti dal Consiglio di Trento e che era già stata iniziata dal suo predecessore appunto da Epio V. A tal fine volle che in tutte le diocesi fossero istituite dei seminari in cui formare le future generazioni di sacerdoti che fossero colti e moralmente inesipiti. Guardò con grande interesse anche i seminari nazionali che erano presenti in Roma affinché i futuri candidati al sacerdotio fossero formati non soltanto nelle materie, diciamo, filosofia, teologia, eccetera, ma anche nell'obbedienza e nella fedeltà alla Chiesa romana. Non dimentichiamoci che era poco concluso il Consiglio di Trento, si era in ballo qualcosa, come sapete, come tutto il problema delle eresie luterane e via discorretto. La gestione di questi collegi fu di fatto affidata alla Compagnia di Gesù che era stata creata da Ignacio di Laiola. I Gesuiti furono sempre dei forti collaboratori di Gregorio che concesse importantissime sovvenzioni e immobili al loro collegio romano, che fu pur nominato in onore appunto di Gregorio, pontificia Università Gregorianze. Ora, sempre aiutato dai Gesuiti, dette poi origine al venerabile collegio inglese, unificò il collegio germanico con quello ungarico facendo un tutt'uno, istituiva gli collegi greco, armeno marronita, proprio nell'ottica anche di arrivare ad un'unione con le Chiese d'Oriente. Gregorio si occupò oltre sì della riforma dell'Ordine delle Carmelitane in Spagna, inquadruvato in ciò da Teresa Davide, anche lei poi santificata, ed è l'istituzione della congregazione dell'oratorio, la creatura praticamente di San Filippo Nero. Ora, sempre spallizzato dalla compagnia di Gesù, si dette da fare per sostenere con vigore l'opera missionaria che era stata iniziata da Pio V, espandendola sia in America che nel lontano Oriente. Poi non si può infine dimenticare che durante il tuo pontificato è vero luogo la bellezza di due giubilei. Oltre a celebrare il tradizionale giubileo, che doveva essere il primo, che fu il primo dopo la chiusura del Consiglio di Trento e che ricorreva nel 1575, ma che fu anticipato al 1574, ne concesse uno subito dopo, l'anno dopo, 1575, a Milano, a San Carlo Borromeo. Vale ricordare a questo proposito un aneddoto, un aneddoto abbastanza simpatico. Quando fu il momento dell'apertura della Porta Santa, Gregorio XIII, quasi a sottolineare praticamente la sua forte volontà di rinnovamento, batte talmente forte con il martelletto sulla porta che il manico del martello si spessò e addirittura gli ferì una mano. sotto il pontificato di Boncompagni, l'attività dell'inquisizione proseguì, ahimè, con l'intensità che era stata voluta dai suoi predecessori, Pio V e Pio VI, Pio IV e Pio V, e si vede che si deve a lui, in particolare ad esempio alla sentenza definitiva contro, a un certo punto, il cardinale Carranza, dichiarato eredico o contro, ad esempio, teologo belga Michele Baio, oppure ad esempio un altro, un domenicano, Giacomo Paleologo, che morì anche lui eredico su dopo. Dal 1572 al 1584 Gregorio, in 12 anni, tenne sette concistori e nominò 34 cardinali. Ora, nel primo nominò, come eri consuetudine, il nipote Filippo Boncompagni, seguito poi da un altro nipote, Filippo Guastavillani, ma a riconoscimenti ben più ampi li concesse praticamente al figlio Giacomo, che fu nominato prefetto di Castel Sant'Angelo, generale di Santa Romana Chiesa e capitano generale delle genti d'armi del Ducato di Milano. Che Cessino, oltre, che divenisse Marchese della Vignola, pagando la bellezza di 70.000 scudi ad Alfonso II d'Este, e Ducca di Sora e Arce, anche lì pagando 100.000 scudi a Francesco Maria II della Rogare, nonché Ducca di Arpino e Arquino, anche lì pagati 200.000, 43.000 ducati a Alfonso III di Avalos. La politica, insomma, a un certo punto si è dato da fare, anche lì non so quanto potrebbe essere oggi perseguibile. La politica estera di Gregorio fu decisamente filo spagnolo e fu segnata dal tentativo di ricondurre praticamente a un'unità religiosa di fatto i popoli d'Europa. A tal fine furono istituite delle nuove enunziature, delle nuove enunziature a Lucerna per la Svizzera, a Gras per l'Auti interna e a Colonia per la Germania settentrionale, che si aggiunsero a quelli già esistenti presso i corti di Vienne, di Parigi e di Madrid e Lisboni. Buoni risultati furono tenuti nei Paesi Bassi, la Polonia tornò completamente nell'area cattolica e in Germania, anche con l'aiuto dei ducchi di Baviera e di altri figli principi ed ecclesiati, il protestantesimo fu bloccato nel suo espandersi. In Francia c'è una situazione indecisa praticamente, lo sapete, la lotta tra i cattolici e i calvinisti. E durissima si dimostrò la posizione di Gregorio nei confronti di questi ultimi, ciò che gli procurò non poche critiche nei secoli a seguire. Esempio più evidente fu quanto giunse a Roma la notrizia della famosa strage degli Ugonotti, nella notte di San Bartolomeo, che si dice fosse stata ordinata da Caterina dei Medici, madre di Re Carlo. Ora Boncompagni fece festa grossa, ordinò di cantare un tedeuro, messe di ringraziamento, fece coniare una medaglia a ricordo con la propria e poi commissionò, un personaggio importante, Giorgio Vasari, una serie di affaresti che raffiguravano il massacro e che noi possiamo vedere nella Sala Regia dei Palazzi Vaticani. Ora, un'altra cosa, altre iniziative di politica estera fallirono muteramente, come il tentativo di riunire la Chiesa, la Svezia e la Russia, al pari delle ripetute cospirazioni per destronizzare Elisabetta d'Inghilterra, che rarano di fatto un solco incolmabile da tutta Roma e tutto il mondo anglosassone. Gregorio XIII, pur essendo impegnato in politica estera, non tralasciò gli affari interni. Da insigne giurista, qual era? La sua prima riforma riguardò proprio la giustizia, convinto che a cimentarsi nei tribunali c'è talvolta il pericolo del patrimonio e dell'onore. Ora istitui quindi nel 1572 la figura del magistrato di Concordia per ridurre i termini del processo e ridurre così le parcelle degli avvocati. Mi perdoni non se ci sono degli avvocati in ascolto, però comunque nulla cambia sotto il sole. La presero male i magistrati che si sentirono limitati, gli avvocati, come disse poi lui, usi a tirar per le lunghe le cause per vuotare le borse ai poveri litiganti. Ora questa riforma non fu l'unica, perché seguirono altre per tutelare inquisiti e carcerati, ma a me, alla morte di Gregorio, riprese tutto il solito andasso. Ora Boncompagni sostiene inoltre con passione l'attività di molti eruditi, promosse una nuova redazione corretta del decreto ungraziani del martirologio romano, un aggiornamento degli indici, e affidò a uno storico, il Cardinal Baronio, la redizione degli annali ecclesiastici. Ma certamente il più grande e duraturo merito del Boncompagni è stato un merito scientifico, aver voluto la riforma del calendario che porta il suo nome. Quel calendario gregoriano, oggi che è universalmente diffuso, salvo alcune eccezioni, l'Iran, l'Afghanistan, eccetera. Ora, la storia è questa. Nel 54 a.C. Giulio Cesare, sul consiglio di un astronomo alessandrino, tal Sosigene, aveva adottato un calendario solare di 365,25 giorni, che fu ipotetto un calendario giuliano. Con l'equinostio di primavera il 23 marzo, e ogni quattro anni aveva istituito un anno bis estile, cioè bis sextus, dies ante calendas marcias. La fine di 15, che corrispondeva con il nostro 28, 20 anni di preparazione. Ma in realtà, essendo il ciclo solare un pochino diverso, un pochino più breve, di 365,24-22 giorni, si veniva accumulando un ritardo di circa un secondo e due, cioè un minuto e due e sei secondi al giorno. Vale a dire un giorno ogni 128 anni. Ecco perché, in occasione del consiglio di Nicea, del 325 d.C., furono rilevati tre giorni di ritardo rispetto all'equinostio di primavera. Ora, ecco perché in occasione del consiglio, dunque, il nostro Gregorio XIII, istitui una commissione che era guidata dal cardinal Cirletto e nel 1582 venne pubblicata la bolla Inter Gravissimas che stabiliva, una tantum, l'abolizione dei giorni dal 5 al 14 ottobre e la soppressione di tre anni bis estili ogni quattro secoli. Cioè, 1700, 1200, 1200, quindi 2010, 2100, 2200 e 2300. Viene a un certo punto e così via. A quelli forse non li vedremo. Allora, tutta la cristianità doveva dunque attenersi a questa norma, come riporta una lapide che noi possiamo vedere molto bene, cioè un dipinto poi, una fresco, che è riportato praticamente nel nostro artigianale, nel loggiato. Non così, però, fu nei paesi di fede ortodossa. Tanto è vero che la rivoluzione di ottobre di fatto avvenne nel novembre del 1917. Ora, ci si è domandati perché i giorni soppressi per volontà di Gregorio XIII iniziassero con il 5 di ottobre. Ora, non dobbiamo dimenticarti che Gregorio XVI era bolognese e quindi non voleva far mancare ai suoi concittadini la festa di San Petronio, il 4 di ottobre. Ecco che allora torse tutti i giorni a seguire. La Bologna non fu gratificata soltanto in questo modo. Infatti, nel dicembre del 1582, con una bolla Universi Orbis, la diocesi bolognese, nonostante la fierissima opposizione dell'Arcivesco di Ravenna, fu permossa ad Arci Diocesi Metropolitana e vede in Gabriele Paleotti il suo primo Arcivesco. Possiamo poi dimenticare il Boncompagno Mecenate amante delle arti. Pose tra i primi l'attenzione alle catacombe che fece trasformare alcuni edifici antichi in opere di comune utilità, come le termini di Euclezziano, ad esempio, che furono trasformate in un granaio. Per sua volontà e con il suo appoggio fu completata la chiesa del Gesù, cioè la casa madre dei Gesuiti, e sorsero poi a Roma i monumenti in Sini, come il Palazzo del Quirinale, sul progetto dell'architetto Ottavio Nonni, detto il Mascherino, e la Cappella Gregoriana nella Basilica di San Pietro. Egnazio Danti, una delle cose più belle che non può vedere in Vaticano, realizzò la Galleria delle Carte Geografiche in Vaticano e inoltre la Torre dei Venti con la sua famosa Meridiana e Giacomo della Porta costruì le fontane, le fontane praticamente di Piazza Colonna, di Piazza Navona e di Piazza del Panteo. Ma il nome di più a buon compagni è anche legato a una piccola chiesa, alla chiesa dei Santi Giovanni Evangelista e Petronio in via del Mascherone, chiesa da lui eretta a chiesa regionale dei bolognesi residenti a Roma. Era una chiesa parocchiale nel Medioevo e venne poi affidata alla cura di sacerdoti spagnoli. E poi, a un certo punto, vi dimorarono dei frati i quali forse la tenero molto male, quindi per la loro negligenza a un certo punto il buon compagno li cacciò via e affidò la gestione della chiesa all'arsi confraterita delle stimmate dei bolognesi che era nata nel 1575 che la restaurò affidando i lavori anche in questo caso all'architetto Ottavio Mascherini e Ottavio Nonni verso i Mascherini e la intitolò ai Santi Patroni praticamente Giovanni Evangelista e Petroni che patroni della città Felsinio. La facciata odierna che noi possiamo vedere risale alla seconda metà del XVI secolo. Attualmente la chiesa che siede dell'arci confraternita dei Santi Giovanni Evangelista e Petronio dei bolognesi in Roma che aderisce appunto alla nostra consul di altre antiche istituzioni bolognesi. L'ultimo dono che Gregorio XIII riservò a Bologna fu la statua che volle fosse retta mentre era ancora in vita sul portale di Palazzo da Cuscio. Morì infatti di lì a poco a 84 anni dopo una breve malattia e a pochi giorni dall'aver solennemente ricevuto un'ambasceria di cristiani che era stata inviata da tre principi giapponesi probabilmente il più antico incontro a Bologna con la nazione asiatica che era questo e i suoi resti mortali furono tumulati nella basilica di San Pietro e soltanto nel 1721 la tomba fu adornata da belle sculture praticamente di Camilo di San Pietro ora torniamo però alla statua la statua che lo scultore Alessandro Menganti fuse nel 1580 nei locali della fabbriceria di San Petronio e che per secolo rimase a benedire praticamente il popolo bolognese ma all'inizio dell'ottobre del 1796 arrivarono lo sapete noto nel giugno del 1776 arrivarono i francesi francesi che erano come lo sapete particolarmente avidi di metalli preziosi in particolare del bronzo per farne i cannotti quindi la suteria dei magistrati che già aveva nascosto la statua di Benifazzo VIII che era presente sulla facciata di Palazzo d'Accursio sul suggerimento dell'Accademia Clementina stabilì che la statua di Gregorio venisse rimotta e trasformata in quella di San Petronio con la giunta della mitra e del pastorale e con un'iscrizione che doveva essere così Vivo Petronio Civitatis Patroni ora la direzione dell'operazione fu affidata a un accademico Clementino tal Petronio Tadolini e la fusione della mitra del pastorale fu data a un orfo Giuseppe Gardino e Giacomo Dotti creò la nuova innicchia dove mettere la statua ma la domanda ovviamente ci si domandava chi vuole che sia così miscredente di fatto da non rispettare il patrone della città ed ecco che nel successivo aprile del 1797 venne esposta la nuova statua di San Petronio la nuova statua di San Petronio così si è presentata fino al restauro del 1895 allorché la tiara tornò sul capo di Gregorio e mitra pastorale vennero rimossi per essere delosamente conservati al museo del risorgimento più dubbio però rimane se ci sia mai stata o si viene avviato quella famosa scritta che deve essere vivo Petronio Civitatis Patronio ora una carrellata di belle fotografie del tempo che fu ci dimostra che la scritta non era sicuramente presente tra il 1859 e il 1861 quando voi vedete che praticamente sul portone del palazzo d'Accusio sventolava lo standardo sabato oppure prima del 1878 data in cui il mercato dell'erbe fu allontanato dalla piazza o nel 1888 quando in occasione dell'inaugurazione della statua equestra Vittorio Emanuele II nella piazza nella piazza che venne a lui dedicata oppure voglio essere noioso nel 1895 come voi vedete quando la statua riprese le sue sembianze originali o anche andiamo più avanti il 21 aprile del 1945 quando Bologna fu liberata dagli alleati o qualche anno dopo in occasione come voi vedete di un commissio in piazza di Del Gasper e ancora più vicino a noi nel 1985 in occasione della grande invicata ora non dobbiamo quindi farci creare in errore da quanto compari in alcuni libri di ampia divulgazione e in alcuni siti internet anche diciamo importanti di Bologna che cioè la scritta sia lì fin dai tempi di Napoleone come voi vedete si legge questo potete vedere sta di fatto che così non è quanto scrivo io rappresenta una mia piccola personale battaglia contro la diffusione di informazioni che vengono date un tanto al chilo senza controllare in maniera scrupolosa le fonti da cui vengo ora la foto più vecchia che io ho trovato in cui la scritta compare è del 2006 francamente non lo so e non mi interessa poco per non dire nulla quando sia ciò successo e chi sia stato il personaggio famoso o meno che praticamente l'ha fatta collocare mi chiedo però se abbia senso che si insatte cioè aver posto questa scritta in capo Gregorio XIII e perché eventualmente non sia stato optato per quel divo Petronio Civitatis Patrono nel rispetto di quando si era stabilito nel lontano 1797 di cosa poi avrebbe detto il grande buon compagno famoso dottorino Trocchi Riure di questi personaggi per i quali il nominativo e il dativo praticamente non fanno alcuna differenza con ciò ringrazio per la vostra attenzione e non senza dimenticare che ci ha dato una mano in queste nostre chiacchierate e un po' un po' di malinconia diciamo vi dico arrivederci se Dio vorrà all'anno prossimo sperano di riuscire in questo periodo a tirar fuori 4-5 altre nuove cose da potersi di fuori grazie di cuore grazie a te Roberto per la tua disponibilità e anche per queste relazioni che ci offri che sono sempre veramente interessantissime sicuramente anche l'anno prossimo lo faremo un uccellino mi ha detto che stai preparando una bellissima conferenza sulle case chiuse a Bologna ma non vogliamo anticipare nulla perché non possiamo presentarla dai divulgiamo per quale motivo dobbiamo essere sicuri che a un certo punto non ci siano dei minorenni in ascolto non siamo in condizioni di sapere però le foto saranno caste pure come sono tutte le tue relazioni quindi possiamo permetterci la storia di Bologna non è nulla di particolare però adesso lo vedremo e lo faremo decidere ai componenti della consulta allora come sempre chi vuol fare la domanda la può scrivere nel bottone pulsante sotto sulla sinistra domande e risposte poi le leggeremo insieme intanto ringrazio Erika che ha curato la regia di queste nostre cinque puntate e fa parte dell'associazione Succede Solo a Bologna grazie sempre allora la nostra amica Chiara Bergamaschi grazie davvero per queste bellissime serate attendiamo le prossime con ansia grazie Chiara della tua gentiletta poi abbiamo una domanda di Giulia che dice ma con il calendario gregoriano abbiamo dimostrato che la chiesa è veramente universale in un colpo solo è stato cambiato in quasi tutto il mondo è vero professore? beh ho detto sono due soli paesi l'Iran e l'Afghanistan che non hanno un nostro calendario vanno per i fatti loro per il resto praticamente si sono adeguati tutti anche l'Unione Sovietica a un certo momento si adeguò al suo tempo al calendario gregoriano ma è diventato mondiale questo fatto correttezza anche per semplicità per maggiore e poi anche perché è quello che maggiormente si avvicina alla situazione reale bene la signora Marilena grazie per queste preziose esposizioni grazie a voi della gentilezza e poi la signora Patrizia ma quindi in quel determinato anno dal 5 al 14 sono spariti giorni quindi sono passati dalla notte del 4 al giorno del 16 e signore è successo così è successo scusate la parruazza c'è un gran casino in particolare per quello che era il problema delle affittanze tutte queste cose qua perché ovviamente chi aveva gli immobili pretendeva il pagamento dell'intero affitto mensile mentre chi abitava quella gente diceva no io devo stare ci furono ci furono dei grossi disguidi però di fatto furono soppressi di pacca in quei giorni bene e come dico facendo attenzione facendo attenzione a non toccare il 4 di ottobre San Petronio esatto e anche lì siamo particolari perché tutta Italia festeggia San Francesco noi invece siamo particolari siamo petroniani esatto bene la signora Moira Possenti grazie professore questi appuntamenti sono davvero di grande interesse grazie a lei signora Moira della sua gentilezza bene io non ho altre domande stavo guardando se qualcuno si prenota intanto vi voglio ringraziare a nome della consulta fra antiche istituzioni bolognesi sicuramente il prossimo anno presenteremo un ciclo di altre 5 conferenze sulla storia di Bologna grazie ancora a tutti grazie al professor Corinaldesi ci vediamo il prossimo anno con la nostra storia soprattutto della nostra bellissima e amata città di Bologna bene grazie a tutti grazie a tutti